questo è un problema molto interessante che chiarisce ancora meglio il concetto di densità leggiamolo insieme un cubo di legno di spigolo 10 centimetri alla massa di 0,5 chilogrammi qual è la massa di un cubo dello stesso legno di spigolo 20 centimetri il problema è interessante perché mette a confronto due oggetti aventi la stessa densità infatti come dice chiaramente il testo il cubo il secondo cubo è dello stesso legno e come noi sappiamo questo vuol dire che a parità di materiale la densità deve essere la stessa la medesima quindi la soluzione del problema è questa si inizierà calcolando la densità del legno derivandola dai dati del primo cubo quindi questa stessa densità sarà utilizzata per il secondo cubo del quale dovremo determinare la massa una riflessione sull'unità di misura centimetri in genere vengono associati ai grammi i chilogrammi ai decimetri di solito decimetri cubi dobbiamo scegliere io direi per iniziare di convertire gli 0,5 chilogrammi in 500 grammi ed esprimere tutte le densità in grammi al centimetro cubo dunque calcoliamo la densità del legno che costituisce il primo cubo la densità è il rapporto fra la massa di questo cubo ed il suo volume trattandosi di un cubo il volume si calcola con la formula lato alla terza il lato viene indicato con a quindi a alla terza sostituiamo e otteniamo 500 grammi fratto 10 centimetri alla terza quindi mille centimetri cubi si ottiene un valore di densità di 0 4,5 grammi al centimetro cubo che è un valore accettabile per il legno dunque il secondo cubo avrà la stessa densità ma avrà evidentemente un volume maggiore il volume del secondo cubo si calcolerà con la formula b alla terza quindi avremo 20 centimetri tutto alla terza e con il volume sarà pari ad 8000 centimetri cubi quale sarà dunque la massa ripartendo dalla formula della densità di uguale m con m maiuscolo indichiamo la massa del secondo cubo fratto vi dobbiamo dare un simbolo diverso allora chiamiamo v1 il volume del primo cubo e v2 il volume del secondo cubo quindi d uguale m fratto v2 la formula inversa ci dice che moltiplicando per v2 primo e secondo membro e semplificando la massa del secondo cubo sarà data dal prodotto della densità per il volume del secondo cubo quindi avremo 0,5 grammi al centimetro cubo moltiplicato per 8000 centimetri cubi il risultato è quindi 4000 grammi centimetri cubi si semplificano ovvero 4 kg una considerazione interessante su questo esercizio è che spesso si ha la tentazione di risolverlo con una semplice proporzionalità dicendo è raddoppiato il lato raddoppierà anche la massa invece non è così perché la proporzionalità è diretta fra la massa e del volume di un di corpi fatti dello stesso materiale dunque raddoppiando la lunghezza dello spigolo il volume diventa otto volte maggiore e quindi adesso sì la massa sarà anche otto volte maggiore 4 kg otto volte più grande del 0,5 dunque non bisogna lasciarsi ingannare dalle semplici proporzioni per applicarle bisogna essere certi che le grandezze che coinvolgiamo nella proporzione siano effettivamente direttamente proporzionali o in proporzionalità diversa in altre situazioni grazie a tutti grazie a tutti